... la Game Boy Ma veramente? ... tra i compagni... ... ma va... ... ah! Che si dice? ... la Game Boy e poi... ... ma che cazzo? ... ma è una bulla Game Boy? ... la Game Boy... ... che se in frattu... ... ci sarebbe una rivolta? Ma figurati... ... mi sono andato a buscare quelli... ... le casano libere le casano... ... le casano... ... e? ... scontrano le case... ... quindi ci vanno a ritorno... ... e qui c'è lui... ... ma vai... ... e non scontate... ... io lo spievo qua... ... si si bravo... ... tutti i ultimi... ... diviniamoci in track... ... prende soldi... ... che strano... ... la piasta... ... perfetto... ... andiamo andiamo andiamo... ... in primo tempo... ... aggirà... ... ai... ... ai... ... ai due... ... бег учerati New... ... cioè... ... non ti passa... ... non ti passa... ... baz establish... ... tira dolивать... ... tira... ... e ne ecco ti un pormac... ...icio... ... avrò assento... ... vaроб calca... sento io dietro dietro andiamo si è qua tra 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 stazione di acquisto nemica in campo eh saranno presi di un bucone ah sul postale ah e qua c'è un po' dietro dei bagni cercare se c'era un autoress per casa si non c'è niente non hai presi tu? no no non c'era niente terra no no quasi un po' come me per un po' di loro sono fermo hai rimesso la mia da sopra tu? dove è io? resta ma anche se tu nulla l'ultima comunicazione solo che tu marco hai comprato qualche cazza? si si per dopo tutte e due ok allora sparo più tranquillo adesso ma spara con i sorrisi ok non c'è ok 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 non c'è ok ok ti devo ti spasso da m***a il nemico ti ha perso di vista ottimo lavoro fuori mi gioca il nemico qui in movimento in movimento come non detto no perché che pare quello che voglio ma hai letto scarino trovato dei denti ma che cazzo c'è fate l'amore fate l'amore ma perché non fate l'amore perché non fate l'amore perché cazzo questi qua ogni volta che stavo giù mi scazzano minchia volo di chiesa ma che cazzo amai no dai non lo faccio più, mi fanno tutte le piazze questo vado qui annulla l'ultima comunicazione ma sono pericolosi quanto è l'oggi? si, appena stavo sopra sei zitto collo la madre la sua squadra è nella zona sicura pirla niente ragazzi non posso sparare i nemici non vedo un cazzo non vedo niente è pazzesco mi ha atterrato uno non vedo il cazzo immi non vedo il cazzo ma il cazzo giusto dove sei scarino giusto sì giusto tua madre di gioco mica è peggio oh ti sonetta avvisa che l'hanno sarà disattivato pure è morta noi per scrivere non stiamo facendo un cazzo ma qua c'è due chili eh no eh qua mi incazzo due chili e tre best damage giusto che tomba dressing e cioè abbiamo fatto scappare tutti con questa chat anche mi servono un po' buonissimi di nuovo è vero è vero è vero presa l'ultimo che arriva è che le palle eh beh allora io faccio già di me lo faccio è schifo cazzo di sensuale oh me l'hai buttato giù ma chi? tu ma non è vero ma non dirlo ma tirate la cassamone ma tirate la cassamone i tuoi ti ve lo faccio tutto no la masca è mo' comprare ma fanculo ti prego ti prego ti prego aff AWS ti prego Assu non non si sa più a controllo sempre a pieni se ci siete arrivano dei nemici attenzione in alto eh si è posto un po' sul tetto è un buon livello sto cercando di mirarlo ma non lo vedo sgrapolo? puoi provare ciao ciao andiamo a sceso qua e qua bravo marco ti senti qua? sopra lì? che muore dai a qua però ok lo dico 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 è morto? assist come assist? non è uno che è di tu che sparai sto fronte? si perché? cosa volevi fare? abbiamo gente sotto ragazzi no perché è mortaio? ma qui è un'altra è morto ma qui è morto? è solo i miei io ho gente giù ah ragazzi è oltre? è oltre? è oltre? è oltre? ho fatto uno ho fatto 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 ho fatto fatto ho fatto fatto ho fatto fatto ho fatto 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 ho fatto 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 ho fatto 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 Occhio eh, passate! Occhio eh! Oddio! Sei tra i primi dieci! Siamo uno sotto! Occhio! La zona sicura è lontana, dobbiamo muoverci! Ora c'è una linea giù! C'è io volo lì eh! Vedo, vedo! Ragazzi, venite con me, venite con me! Ma se ne sangiamo adesso eh! Vedo quella canzina mia! Come non detto! Non li vedete ragazzi! Ma bucchiamo però! C'è una stazione di acquitto nemica! Ah, a te! Ti metto un S! Ti metto un S! Ti metto un S! Hai una maschera oro! Dammi, dammi! Ein altro non c'è bisogno... Veloce! Devo in un altro non c'è bisogno... Dammi! Dammi! Quanti siamo? È caduto fuori ma è caduto! Va dietro! Va dietro! Sono due lì dentro! Occhio eh! Ok, due contro due! Tre contro due! terra godo ahahahah il progetto chi sa più bella chi sa più bella chi sa più bella chi sa più bella non è meglio io ho fatto meno tanti eh ma io ho fatto di più eh vediamo sono curioso ma tu hai fatto più movimento vediamo un po attenzione please minchia marco ha fatto 6 kill e io andrei a 0 chiama te è schifo non è per la gente io ho un po' con me mi vorrei un facilissimo verrà vediamo se è vero o no tre con me 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 sì 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 non ci creda non è giusto no 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 cazzo non ha funzionato sì hai fatto tre danni fino a 2.000